Sul palco di Sanremo è stato una rivelazione. In coppia con Francesca Michelin nel brano Chiamami per nome, il rapper ha davvero mostrato alcuni aspetti che fino a questo momento aveva trattenuto per sé. Una grande emozione sul palco dell'Aristo, manifestata attraverso gli occhi lucidi, e non solo. Braccialetti anti-ansia per evitare che la tensione potesse prendere il sopravvento e in ultimo, un dettaglio sulla camicia. Carico come non mai. Un nastro bianco tra i loro microfoni e una canzone che parla d'amore e di distanze. Il rapper e Francesca Michelin si mostrano sul palco come mai visti fino ad ora. Un'esibizione significativa in un periodo di emergenza sanitaria, che i due cantanti riescono ad arricchire con molti dettagli. Ed è, in prima linea, pronto a lasciarsi sfruttare dai più curiosi. Il rapper continua a collezionare un successo dopo l'altro, senza per questo fare passare in secondo piano la vita sentimentale. Sicuramente quella dei Ferragnezza è una storia d'amore che lascia sognare a occhi aperti, e Chiara innamoratissimi e pronti ad accogliere un altro figlio nella loro vita. E come ormai tutti sanno, Federico Leonardo Lucia sta per diventare padre di una bambina. Punto leggi anche. Un evento che recherà tanta gioia ma anche tanti cambiamenti a cominciare dalla casa. Infatti i due hanno già messo in conto di lasciare l'appartamento di City Life, Milano, in vista della nascita della bimba che, tenetevi forte, nascerà a marzo. Per quanto riguarda il nome, la baby girl inizia a essere presentata al pubblico partendo proprio dal palco Sanremese. Il motivo. Ecco cosa ha rivelato il papà di Leone. Continua a leggere dopo le foto e i post. Tutto è accaduto a distanza di poche ore dal debutto del Festival della Musica Italiana, quando ha pensato bene di lasciare incuriosire i fan attraverso il suo profilo social. Infatti il post pubblicato su Instagram ha svelato un dettaglio molto interessante. Sulla camicia variopinta e quasi psichedelica del rapper, ecco sulle spalle incise quattro lettere. Di cosa si tratta? Con F Corso e le due indicate sulla schiena, il rapper ha voluto suggerire le iniziali dei nomi dei componenti della famiglia. La mia famiglia mi copre le spalle. Quella V sarà riferita propria alla baby girl in arrivo? Immediati i commenti dei follower, il nome della bimba inizia con la V. E ancora, ha svelato il nome, si chiamerà Vittoria. La sorellina di Leone sarà Vittoria Lucia Ferrandi. La sorellina di Leone sarà Vittoria Ferrandi.